Eccoci tornati in un nuovo video e so che è da tanto che non carico video ma ho avuto dei problemi tecnici Fortnite, siamo col mio amico Fox Sterminator e ovviamente oggi c'è aggiornamento delle macchine, challengeina con le macchine te ne privi? proveremo a fare una challenge con le macchine, ossia stare tutta la partita usando solo la macchina perfetto, ma da quando nelle casse si trovano due armi? da quando esiste? da quando c'è ancora una dritta tattica? vabbè oggi c'è festa ma io ho aperto un'arma, ho trovato, si vabbè ho aperto un'arma, molto, non sapevo che sia ho aperto una cassa e dentro quella cassa ho trovato una balestra e un combat e io trovo tutto quanto tra le NKR da posto, io ce l'ho la R che però non è classificabile R perché questa qua non si può prendere come cassetta ma io sto ancora ricaricando il polisucco, sto ancora ricaricando quindi, come li faccio? eh, ho girato io ho pure la venditura portale venditura portale? si, ho la venditura portale ma la cosa è il polisucco ma che cos'è il polisucco? è arrivato a 75 comunque è un urb raggiunge 100 punti salute patto mi ho dato 0 euro perché sono barbone tu 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 la bomba è ballerina oh ma oggi è festa si sboccia io ho trovato tutto quanto tra le NKR una R non c'è tanto oh, non mi prende le munizioni non c'ho sbatti di arrivare fino a lì c'è assolutamente io oh, Atomicon ma mi trovo di tutto no, c'è una R che non so se è classificabile come R perché Piero meglio Atomicon o mitraglietta tattica secondo me è meglio Atomicon scrivete sotto nei commenti qual è meglio prendo la macchina e vado aspetta c'è una roba buona in che senso? il mio amico si droga lo chiamerò così questo video il mio migliore amico si droga allora allora mi ha dato anche una missione vi svelo un segreto ma perché quella cosa ma dove perché sono sceso? tanto sono infinite le munizioni della cosa qua vi svelo un segreto la macchina va più veloce in strada ma scusa scusa Piero oddio ho svelato il tuo vero nome vabbè perché questa freccia no, l'avete vista anche voi che c'è una freccia qui scomparuta vero? guarda, guarda, guarda perché questa freccia è ferma in aria? togli vedo io hai carburante no, c'era una freccia ferma in aria sicuro io sono decisamente a finire hanno targhettato un... hanno targhettato una cosa mi ricordo come si chiama perchè non so di dare sono schifo ma vieni qui non rompere scusa ma possiamo andare a piedi a setta vicino ma io non voglio andare a piedi ma comunque io consiglio a tutti quelli che parlano questo video oh stanno arrestando stanno arrestando pusha posso parlare? io consiglio a tutti quelli che guardano questo video scusa ma c'è una canzone di da suprimmi eccolo spera qui perché vai a partire da stavo... si col combat pusha che coppusha 10 atterrato davvero 10 atterrato ma che cazzarola dici 10 atterrato e tu l'hai lì e tu l'hai il francisco pushi 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 signore pushi pushi signore pushi signore pushi oddio mi sono entrato dai no no dai io non c'ho mazzo lo so più amato in fronte lo so togliti 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 come ha fatto a prendermi scusa oh è suo il muro è mio il muro perché come ha fatto voglio di aprire poi succede una roba e tu me lo rubi ci spottano zitto se tu ti stai fermo si muove ma lo capisci quando ti dicono quando la gente non la gente ti dice stai fermo lo capisci ehm c'ho una tanica di benzina posso bere la benzina se vuoi c'è un falò vieni vabbè non che questa cosa che adesso ti bruci e ti metti troppo attaccato al falò è veramente una cavolata tazzesca sì siamo sadici bruciamoci ma se io perso la benzina secondo te si aumenta il fuoco ma se io lo faccio lo propago no ah no stavo prendendo fuoco che poi la benzina ma dai ma che schifo la benzina dovrebbe alimentare il fuoco non credo ci buttaci la tanica prende fuoco prende fuoco questi qua poi è bellissimo che ma non il fucile termico sono di una season più giovanile sì di una season più giovanile ma vaffanculo come è un fan più vecchio season eh io posso sparare dentro la macchina spacciamo tutto va beh cazzo scudino anche uno c'è anche uno uno la roba che c'aveva questo no no sto crescendo come faccio a fare 200 di ping scrivi sotto nei commenti se mi mancano alcune delle armi che ci sono ora scrivi sotto nei commenti perché faccio 200 di ping a caso ma chi se ne frega perché fai 200 di ping ma guarda secondo me non interessa a nessuno ok ah sentite madò se lo hittavo con l'arco madò ma no ti ho fatto l'assist e rossi c'è rossi c'è il cespuglio il cespuglio il cespuglio divento ci fai che cespuglio io no basta prova a montare in macchina col cespuglio hitbuster cespuglio macchinato vuoi pure un jug jug perché sono trasghere proprio fatto male oh per tua fortuna ho finito il jug jug ma fra ma non ti potevo ma che cavolo è una macchina rotta ma prova a rimanere adesso io ti abbandono al centro della safe e rimani tu in macchina col cespuglio c'è la macchina veloce c'è la macchina che c'è il turbo ma guarda che andiamo tutti a te scatti wow hai mai visto il cespuglio che guida la macchina no però adesso si ma magari se metti la benzina ma come lo versi e io la sto mettendo perché non sapevi che si faceva così ma io la posso buttare adesso posso buttare solamente che il cespuglio mi copre la visuale ma saprei che si può versare anche così ma cosa è successo ma scendi non sei capace lascia guidare il cespuglio certo una cosa raccomandabile mi dicevo non mi vado a guidare sono pigro che non lasciarmi mi vado con il mio amico sto con il mio amico se mi lasci comunque ce ne hai fatto un assist ma dove stai andando scusami quante kill hai fatto una perché e tre assist tipo a trovarsi o del genere le macchine galleggiano la logica è tipo quella di gta su gta pure le macchine galleggiano non è vero affondano lello 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 che fai lello perché te lasci lello andiamo al safe dove stai andando muta macchina lello vai lello vai lello vai lello sei loro con l'elicottero noi stiamo con le macchine siete primitivi voi in realtà sono loro insomma le primitivi tecnicamente tecnicamente ma no abbiamo bisogno da cespoio eh tecnicamente aio ci spare no fratello contraspara contraspara fratello scendi borgo droia burga droia burga droia vradelo ma secondo me secondo me fra ma guarda che secondo me uno è rimasto giù eh a me esce l'arma da qui ma mi esce l'arma da cespoio ma che ne so ma monta macchina c'è un manco il carburante corri verso il carburante prima che arriva la safe partiamo così partiamo così vai 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 130 sto tornando 130 vai 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 si vola non si vola non si vola tutta rotta eh sta macchina guarda sgomma pure ci hanno bucato una ruota ci hanno bucato sicuro ci stanno prima appareggendo piedi ci giuro perchè la macchina perde vita ma perchè sta esplodendo la macchina ma guarda perde vita da sola ma perchè mi faccio prima di andare a piedi è bucata una ruota ma grazie che perde vita ma mi faccio prima se sto facendo prima di andare a piedi e posso prima di andare in fronte in macchina comunque massimo se vuoi io devo venditura ai portali eh portali 130 sto arrivando ho preso il cecchino quindi scusateci per il disagio stai volando jack mai più perchè devo giocare con questa gente ho pure fatto prende danno adesso se non hai cure non giochi mai più con me non ce le ho le cure ho le fungine portali fai schifo fai ho 82 di vita ti sei ciucciato ti sei ciucciato uno cioè avevi 75 di scudo ti sei dovuto fare il jack jack con io che c'avevo 100 di vita non lo potevi da me no sei proprio stupido davanti a noi non mi ho tirato giù un albero però ma dove sono ma io ho visto la ma io ho visto l'animazione di un un altro eccolo adesso lo vedo e non l'ho preso guarda la è la mia forza è la mia forza ma sta disboscando tutto ma no ma un poverino degli alberi sono amico degli alberi perchè non ci spuglio stica non ci metti oh oh roba leggendaria con una persona 115 con l'arco Piero aiuto comunque ci posso anche da sinistra io tiro la freccia dentro corri corri la piole la piole la fenditura la fenditura la fenditura la fenditura la fenditura ma chi se ne frega dalla tua io ho sola la mia non è la tua quello sull'alberone non è la tua Piero gli anelli fluttuanti finalmente servono a qualcosa Massimo guardami vieni da me vieni da me Piero qua sopra da me ci stavano c'è veramente gli anelli fluttuanti che si trovavano in giro questi qua adesso servono a qualcosa oh mio dio Piero ma tu sei completamente mimetizzato cioè non noterà mai niente nessuno c'è spuglio sull'albero no ma c'è sei invisibile praticamente dietro dietro stai fermo stai fermo gli sparo io col cecchino silenziato sono fattacinque sono fattacinque mamma mia perché non lo blocco mai da pulito fra ma questo qua adesso ha cominciato a buildare io comunque comunque attenzione leo un elicottero spara lì ma quello lì è quello che stavamo fai dando prima comunque mi dai colpi cecchino eh fracascano se ti le do qui sai perché a me sembra per il fucile da fanteria ma che è il fucile mi sei proprio stupido non so fucile da fanteria va con le munizioni normali con le munizioni della R ma c'ha ore e ore di gioco lui si vede si ma io non mi ho giocato per fanteria vabbè è vero tu sei vecchio stelta 2 stilato me l'hai stilata tantissimo lo sai non ti servono mi servono colpi per il per la fanteria ah allora dillo prima Nabbo cosa Nabbo ma non è che perché sono vengono dopo di te sono Nabbo ma dove tono le pezzone siamo in 7 siamo 2 contro 2 con quello là e da solo sicuro sicuro massimo gente dove ma non sparare se non sei sicuro di hitarli madonna mia Piero intelligente sono sempre sicuro infatti la presi Piero ci stanno distruggendo l'albero sotto ma non l'ho preso ma come non l'ho preso aio costruisci restami restami non puoi costruire è un cacchio di albero vieni indietro vieni indietro lì ti prendono siamo leggermente morti direi che il video si va così